Ciao ragazzuoli, video un po' particolare oggi e sarà anche molto molto breve. Vediamo in poche parole come simulare il browser di uno smartphone da pc. Può sembrare qualcosa di inutile, uno potrebbe chiedersi perché dovrei simulare il browser di un cellulare da computer quando da computer è tutto più comodo. In realtà può tornare utile con certi siti. A me è capitato che mi tornasse utile questa cosa perché magari dovevo vedere un qualcosa magari che su un sito è visibile solo da smartphone oppure comunque dall'applicazione smartphone è più facilmente raggiungibile però mi trovavo da computer. Mi pesava un po' andare a prendere il cellulare, non avevo voglia e quindi appunto mi sono un po' cercato di capire se fosse possibile fare questa cosa. E sì è possibile ed è possibile farlo con tutti i browser. Ora io qui mi trovo su Edge di Microsoft però la stessa identica cosa c'è anche su Firefox, Chrome, Chromium e derivati. Quindi praticamente per tutti i browser perché se dici Chrome e Chromium hai detto il 99% dei browser. L'unico di cui non saprei dire se c'è questa cosa o meno è Safari perché non lo uso, non l'ho mai usato. Comunque a lato pratico come si fa? Tasto destro, ispeziona, clicchiamo questo simboletto qui. Per quanto riguarda gli altri browser può cambiare, può essere leggermente differente però più o meno è questo. Lo andiamo a cliccare e poi andiamo a ricaricare. Per alcuni siti è necessario ricaricare. Per quanto riguarda GitHub, ho preso questa pagina ad esempio completamente a caso, non avrebbe servito ricaricare però insomma per sicurezza fatelo per avere proprio la simulazione fatta bene. Quindi questa qui è la nostra schermata di GitHub come se la stessimo visualizzando da smartphone. Vedete che abbiamo questo pallino qui al posto del cursore quindi come se fosse proprio il pallino di Android diciamo. E qui per scrollare possiamo farlo sia normalmente con il touchpad o il mouse quindi scrollando normalmente oppure simulando un tap sullo schermo quindi così cosa che altrimenti non sarebbe possibile perché ci selezionerebbe tutto quindi se dalla visualizzazione per computer usassimo quella tecnica lì vedete che andremo a selezionare tutto. Quindi con la stessa cosa, vedete, qui invece possiamo scrollare tranquillamente. Funziona lo stesso identico modo dello smartphone. Se teniamo premuto vedete che possiamo anche andare a selezionare. Quindi stiamo a tutti gli effetti simulando lo smartphone. Quindi questo è il quanto. Non c'è nient'altro da dire. Spero che questo video vi sia stato utile che vi sia piaciuto. Se così fosse lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale. Se avete dubbi, domande, considerazioni, qualsiasi altra cosa scrivetemi nei commenti e noi ci rivediamo in un prossimo video. Ciao!